Dunque, io vi consiglio di venirlo a vedere questo concerto perché è una roba unica. Ci sono 62 elementi d'orchestra e 30 di coro. Ci sono 5 attori bravissimi, c'è il sottoscritto, una storia meravigliosa, delle canzoni inedite, bellissime. E che altro devo dirvi? Fidatevi di me. 5 concerti annunciati che sono, signorina mi può dire le date, grazie. 1, 2, 4, 5, 6 a Roma. 29 luglio all'Aiatico. 29 luglio all'Aiatico. 1 e 2 settembre a Verona. 1 e 2 settembre a Verona mi casca l'insegna. 7 e 9 a Taormina. 7 e 9 a Taormina di? Settembre. Settembre parliamo. Signorina, lei è un angelo. Un disco di inediti che esce a maggio. E naturalmente sono brani inediti e estrapolati dall'opera Zeroski. Solo per amore. Sono stato bravo. E' un disco di inediti bellissimo. Grazie a tutti.